Osservazioni all'American Enterprise Institute da parte del Presidente George Bush del 4 dicembre 1991 Eppure, nonostante il fatto che solo scorso anno le esportazioni lordi totali abbiano rappresentato praticamente tutta la crescita economica di questa nazione, una nuova generazione di isolazionisti sembra pensare che la politica interna venga inghiottita dal mare. Bene, grazie a Dio non eravamo nel 1492. Immaginate quanto tempo difficile avrebbe dato a Cristoforo Colombo. Voci di destra e di sinistra stanno lavorando in questo momento per dare vita a quelle vecchie teorie della terra piatta del protezionismo, dell'isolazionismo. Ma non si torna indietro. Il nostro nuovo mondo è molto più piccolo. Le comunicazioni molto più istantanee. I nostri orizzonti si estendono molto più lontano con ogni generazione. Questo è il 1991, non il 1791. Un atteggiamento da cavallo e calesse non si porterà nel prossimo secolo. Caro si fa per dire, Presidente, Oggi, dopo 32 anni, le comunicazioni sono solo più istantanee, ma si vive completamente isolati, sia a destra che a sinistra. Era meglio un cavallo col calesse con la merda per strada che l'inquinamento della terra e del cielo. Grazie. Grazie. Grazie.